buongiorno parliamo della mia app page stayplot la prima volta che partirà il wizard che vi aiuterà nelle principali impostazioni ecco questa è la prima pagina veramente importante dovete sapere che a partire da android 10 potrete salvare e ripristinare i vostri file di configurazione solo nell'area di archivazione privata dell'app io avevo previsto di salvare i file dei rectori esterni in maniera che potessero essere recuperati anche qualora disinstallate la mia app ora non è più possibile o meglio è possibile qualora l'utente lo autorizza esplicitamente ecco per esempio se state aggiornando la version 1 2 di questa app non sarete più in grado di accedere ai palchi che avete salvato in precedenza a meno che di autorizzare esplicitamente l'accesso come si fa ecco qua questa pagina vi permette di farlo schiacciate prima il robotino avrete accesso all'area di memoria dove sono stati salvati i vostri palchi precedenti dovete esplicitamente permettere usa questa cartella l'accesso e poi col secondo pulsante se tutto andrà bene l'area diventerà verde e vi dirà che avrete recuperato i vostri palchi con successo bene procediamo nelle seguenti schermate vengono illustrate le principali caratteristiche e di questa app come farlo funzionare come resalizzare gli oggetti piazzarli eccetera eccetera andiamo avanti lo vedremo